Scarpa Vecchia fa buon gioco, poste italiane ricicla le calzature dei portalettere per i bimbi e per l'ambiente. Economia circolare e sostenibilità ambientale sono le parole chiave di Scarpa Vecchia fa buon gioco. Il progetto, nato da un'idea vincente proposta nel contest insieme, adesso in fase di sperimentazione al centro di smistamento di Ancona. Il progetto consiste nel riciclo dei dispositivi di protezione individuale dismessi, decine di migliaia di scarpe antinfortunistiche in dotazione ad oltre 40.000 tra portalettere e operatori di stabilimento e la loro trasformazione attraverso un processo di triturazione e separazione delle componenti in mattonelle antitrauma per la pavimentazione dei parchi giochi degli asili nido di poste italiane. Grazie alla nostra rete logistica le scarpe vengono raccolte qui al centro di Ancona, vengono da tutta Italia e tramite i nostri mezzi operativi qui arrivano e vengono stoccate in contenitori specifici che poi vengono raccolti dalla ditta che fa la parte di trasformazione dalla scarpa al prodotto alternativo di riutilizzo. Per sostenere questa iniziativa, capace di coniugare i vantaggi economici dell'economia circolare con la promozione di una maggiore attenzione all'ambiente, Poste Italiane sin dal giugno scorso ha invitato i portalettere a contribuire al riciclo di scarpe e dispositivi di protezione ormai usurati e ne ha organizzato la raccolta. Questo progetto è molto importante in quanto gli dà vita alle cose ormai usurate, anche sotto una nuova forma e un nuovo riutilizzo e in più sposa il progetto Green di Poste. In azienda noi contiamo circa 40.000 operatori tra portalettere e operatori di produzione degli stabilimenti. Mediamente in Italia raccogliamo all'anno circa 25.000 paia di scarpe. Il vantaggio concreto di questa attività permette in un anno di evitare di mandare in rifiuto circa 21 tonnellate di rifiuti annui, con un risparmio di circa 60 milioni di tonnellate di CO2. Grazie a tutti.